Che cosa si intende per remissione clinica nell'asma grave e quale impatto può avere l'introduzione di questo concetto sulla terapia? Si è discusso anche di questi temi nel corso del recente congresso della European Respiratory Society tenuto a Barcellona, anche alla luce di un paper pubblicato ad aprile su Lenset e noi abbiamo qui il professor Walter Canonica che ha realizzato questo paper e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito per poterci aiutare a capire questi concetti. Buongiorno professore, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora professore, nel campo dell'asma è crescente la volontà di raggiungere il massimo del beneficio clinico per i pazienti. Ora, la possibilità di raggiungere questa nuova frontiera della remissione clinica sta diventando un argomento sempre più studiato nell'asma grave ed è infatti l'argomento della sua pubblicazione. Quali discussioni e le evidenze sono state condivise a questo ERS e a supporto anche dello studio che lei ha pubblicato? Direi che da più parti c'è stato un cambiamento concettuale di valutare come l'asma è stata trattata e diciamo soprattutto l'asma grave. Cioè per decadi noi abbiamo pensato di valutare solo con la broncodilatazione, il VEMS. Poi siamo passati alla valutazione delle esacerbazioni come goal primario del trattamento e io ho vissuto quelle epoche. Diciamo che il primo lavoro che ha usato l'esacerbazioni è stato l'innovate con l'omalizumab e abbiamo partecipato a questo studio. Bene, è il momento di cambiare e di mutuare anche da quello che hanno fatto altre discipline. Sto parlando della gastroenterologia per l'IBD, sto parlando della reumatologia per la sete reumatoide, cioè andare a una valutazione di score più complessi, multi score, per avere una, in quello che noi abbiamo definito nel lavoro di Lancet come disease modifying anti-asmatic drugs, cioè terapie che modificano la malattia. È chiaro che non posso modificare la malattia soltanto pensando a controllare il sintomo come abbiamo fatto fino adesso o fino a qualche anno fa. Adesso abbiamo i biologici che stanno cambiando radicalmente. Allora abbiamo proposto e vi posso dire che il nostro registro italiano dell'asma grave, il Sani, che ormai tutti conoscono e menzionano anche all'ERS, ha proposto, adesso sta facendo una DELFI, per andare a definire quella che è la migliore possibile definizione. Ma il concetto che noi abbiamo proposto è non basta non avere sintomi, non basta non avere esacerbazioni, bisogna anche mantenere la funzione polmonare e soprattutto evitare l'uso degli steroidi sistemici. Quindi non solo un criterio, ma tutti e quattro i criteri possono essercene anche di più, volendo, ad esempio una delle valutazioni fondamentali potrebbe essere la concordanza del paziente e del medico sul concetto di remissione. Poi c'è anche da definire, perché questo non è ancora completamente definito, per quanto tempo questa remissione? Valutiamo 12 mesi? Perfetto, 12 mesi potrebbe essere un criterio. Quello che io voglio dire, e giuro che con questo concludo, si sta cambiando radicalmente la situazione. Mi spiego meglio. Se come ho detto per tanto tempo, l'outcome anche degli studi registrativi era quello di FEV1 VEMS migliorato, ma perché si trattava solo con il broncodilatatore, se successivamente si è valutata l'esacervazione, d'ora in poi si arriverà a valutare un trattamento, se è in grado o non è in grado di indurre la remissione dell'asma grafica. Ecco, allora professore, diciamo per tirare un po' le fila del discorso. Quindi, che impatto avrà una volta che verrà definito questo concetto di remissione clinica in maniera univoca nel trattamento dei pazienti? Beh, fondamentale, perché intanto capiremo francamente chi sarà e chi non sarà colui che può raggiungere la remissione. Non dimentichiamo che questo è un dato molto importante. Quindi anche nella logica di investimento nei pazienti saremo in grado di fare un salto qualitativo, primo. E in secondo luogo, possiamo pensare anche a una valutazione di un trattamento più precoce, ad esempio con questi farmaci, per prevenire. Quindi modificare la malattia in primis. Previsione dei tempi sull'esito della vostra consensus? Beh, fine anno dovrebbe essere terminata e direi che proprio le Delfi, come voi sapete, sono quelle che danno una visione la più corretta possibile, ma penso che possa essere veramente un grosso passo avanti. Grazie a tutti.